Stavolta è vero ragazzi, non è una finzione, non è una barzelletta, stavolta è veramente vero. Principe, stavolta ci siamo, ma però solo noi, quando vi ho detto che vi portava a fare un giro non intende proprio questo, non testuale, vai a 2000 allora, il carrello per quale aeroporto, è lì nati? Sì, sono tutti i bagagli da spendere. Ora, c'è gente brava oggi, c'è cani, la ciai cani orchestra. Lei fa parte della ciai cani anche lei? Sì, uno là e uno è fuori a mattina. Guarda un po' chi è la padrona del palco, hai visto? Lei è la padrona del palco, veramente la padrona. Oh Luca, ma ci senterà qui tutti? No, non è ci sta, non si sta appicciando la penata, quattordecchia. Buonasera, benvenuti anche stasera con le interviste impossibili qui al Sashol nella splendida cornice di Sashol. Molto interessante, dalle varie sfaccettature andremo ad analizzare a fondo questi due personaggi. Io guarda, un mirofolo così non l'abbiamo visto, però insomma va bene. Eh no, ma non è un radiomicrofono, è salpito. Ma così è chiuso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no! All my big green target No, 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 no no Grazie a tutti. Alla piccola Sivilla. 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 Grazie a tutti. 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 tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a 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 tutti. ultimo, last come dice quello, Matt Notte, insomma quella cosa lì, sentite la tua, e arriva con una tuba e va via con due tube, al basso tuba, Mr. Turriniio! Grazie a tutti! La nostra vita è la libertà, è un pensiero, è un pensiero. La nostra patria è il mondo intero, la nostra vita è la libertà, è un pensiero, 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 è un pensiero. La nostra vita è la libertà, è un pensiero, è un pensiero, è un pensiero, è un pensiero, la nostra vita è la libertà, è un pensiero, 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 è un Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti 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 Grazie a tutti